Buonasera a tutti, volevo innanzitutto, così iniziamo subito la performance, volevo farvi conoscere una cosa importante. Franco Cerni è il primo artista italiano di jazz ad avere sia sull'LT e sul CD il linguaggio Braille, per i nuovi denti. Per cui vorrei un applauso a tutti e a tutti i suoi studenti. Vorrei invitare i tuoi miei amici, Sandro Morciari, al contrabbasso, e alla tastiera Alberto Gurri. Che è diventato un compagno di vita musicale, se non ero da quattro anni. Cominciamo con un brano, un blues, che io ho a suo tempo intitolato il blues dei Frammarsteni. I Frammarsteni servono Franco, Marion, mia moglie, Stefano, Fremorfani e Nicola. Quindi è il blues dei Frammarsteni. Uno, due... Un'altra... ... Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. 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 ... 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 ...... ...... ...... ... ...... 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 ... ...... ...... ...... ... ... ... ...... ...... ... ...... ... 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 It proves that I got the last love of me Cause instead of one head I got two And you know two heads are better than one Mercedes Parani Mercedes Parani Alessandro Verciani Alberto Guilini che non siano tra l'altro questi questi amici che hanno accettato di venire qui avevano degli impegni oggi sono riusciti ad operarsene per esempio tu per ceres avevi un interno più ma adesso non è finito mentre invece sia alex che alberto alex è venuta a genova era già in giro si ma vado in spiaggia allora alberto che torna a Parma è venuto da Parma e ritorna a Parma perché anche da parte mia un grande grazie 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 a voi per la vostra amicizia e gli anni di incontrarmi grazie 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 grazie